Continua l'ondata di maltempo sulla Puglia e in diverse zone della murgia barese e in queste ore si registrano incidenti e danni, un tiro fuoristrada a Barletta e un'auto si ribalta a Molfetta. Continuano le forti piogge che stanno causando disagi nella fascia costiera a nord di Bari. Già da ieri i sindaci di Barletta, Trani, Biscegli e Margherita di Savoia hanno disposto la chiusura delle scuole. Nell'entrotella, per quanto riguarda la murgia barese, disagi a Gravina in Puglia e anche ad Altamura, come si vede dal filmato, la conta dei danni e un muro di cinta si è completamente riversato per il forte vento su se stesso, bloccando anche l'ingresso di un garage a largo nitti. Fortunatamente, almeno al momento, non si registrano danni a persone e l'allerta della protezione civile è ancora valida fino alle ore serali di oggi, 12 novembre 2019.